La XL Marine è nata poco più di due anni fa per produrre motoscafi open da 43 a 65 piedi, di assoluta eccellenza rispetto all'attuale panorama della nautica. Il nome scelto, XL seguito dalla lunghezza 51, sintetizza questa missione aziendale. Le due lettere XL sono simboliche del massimo di una scala, insieme a rappresentare una forma abbreviata del verbo XL. Le XL Marine vogliono rappresentare infatti il massimo della qualità, della performance e del comfort nell'eccellenza del design e della marinità. Il primo modello sviluppato è stato l'XL43, di cui ne sono stati consegnati già nove, quattro dei quali potete vederli in navigazione. Quest'anno, il terzo di gestione, è stato sviluppato l'XL51, di cui ne sono stati consegnati due. Il primo è quello che vi presentiamo. Le caratteristiche dell'XL51 esaltano quelle proprie di tutti gli open XL Marine. La linea essenziale e filante, che affonda le sue radici nella leggendaria tradizione degli open. Questa linea si evolve infatti dai day cruiser, che nascono a cavallo degli anni 20 e 30, per permettere agli uomini d'affari di New York il commuting con Long Island. Nei primi anni 60, la combinazione con le linee e soprattutto con le carene dei motoscafi da corsa offshore, crea i mitici capostipiti degli open. L'XL Marine, nell'assoluto rispetto di questa tradizione, rende moderna questa linea, esaltandone la pulizia ed eleganza del design ed arrivando così ad una linea classica, contemporanea, sempre più difficile da trovare nell'offerta nautica attuale. L'insuperabile tenuta al mare, data dalla combinazione della sua carena a V profonda a 23 gradi a poppa e del suo diamante di prua a concavo, che garantisce un passaggio sull'onda, anche con mare formato. Di assoluta eccellenza e superiore ai concorrenti. E l'assoluta qualità di costruzione, sia nella vetroresina, dove la laminazione è realizzata secondo le tecniche e con materiali più avanzati, mediante infusione, impiegando unicamente resina vinil estere a basso HTD, sia nella componentistica, dove la scelta dei materiali e delle marche è spesso riscontrabile solo su barche di dimensioni superiori e ai massimi livelli qualitativi, garantendo anche per questo aspetto agli open.xl una posizione di primo piano rispetto alla concorrenza. Queste, le caratteristiche principali che rendono gli open.xl e marine sinonimo di eleganza, eccellenza e qualità in mare. Barche fatte per chi ama e conosce il mare, da chi lo ama e lo conosce altrettanto. La comodità e l'ampiezza degli spazi esterni, con la grande dinette e il doppio prendisole di poppa e di prua, creano un ineguagliabile equilibrio tra performance e comfort nel rispetto dell'assoluta pulizia delle linee. Il prendisole di prua è infatti incassato perfettamente a filo della coperta, creando quindi una comoda zona per prendere il sole, tenendo inalterato il profilo della coperta. Una caratteristica peculiare dell'xl marine è il cancelletto in vetro resina di accesso alla piattaforma da bagno perfettamente integrato nella poppa, sia all'esterno che all'interno del pozzetto in posizione chiuso, senza buchi, bracci meccanici o porticine di plastica a vista, e completamente a scomparsa nel piano pozzetto in tec in posizione aperto. Sia il cancelletto, sia il portello del gabone, entro cui scompare, sono azionati elettronicamente. Nello stesso modo è azionato il plate del prendisole, che dà accesso alla sala macchine di poppa, che ha un secondo accesso anche a prua dei motori. Completano l'allestimento del pozzetto, il mobile bar che include l'ingresso alla cabina marinaio, il frigorifero esterno, sedile pilota, ed il cruscotto con i piani in fibra di carbonio ed il timone xl marine. Anche negli interni, le caratteristiche dell'XL51 esaltano quelle proprie di tutti gli open XL Marine. Per prima cosa, l'XL Marine 51 stupisce per l'ampiezza e l'altezza degli spazi interni rispetto alla linea così filante sull'acqua. Il design interno, curato dallo studio di architettura Labix, riflette le stesse caratteristiche delle linee essenziali ed eleganti dello scafo, con una precisa scelta di uno stile contemporaneo, sobrio e raffinato. Tutti i particolari sono estremamente curati, dalle porte perfettamente a filo, alle maniglie disegnate in esclusiva per XL Marine, dalle giunzioni dei pannelli a 45 gradi, al portabottiglie e portabicchieri. La suite dell'armatore ha il suo bagno privato, con il piano del lavabo in Corian scavato ed è fronteggiato da una parete a specchio. La particolare progettazione degli armadi fornisce una cabina a spogliatoio riscontrabile solo su barche di dimensioni molto maggiori. Di design sono anche l'ampio divano ad L e la cucina a giorno, dove sia il piano con doppio lavello a filo e la parete di fondo, sono in acciaio Scotch-Brite, sotto di cui trovano alloggio due frigoriferi. La cabina ospiti è disegnata con due letti in piano ed il bagno ospiti ha le stesse caratteristiche di quello dell'armatore. Gli allestimenti previsti di base sono due. Suite armatore con bagno, cabina ospiti con bagno, cucina, dinette più cabina del marinaio con bagno, oppure è possibile avere una seconda cabina a ospiti al posto di quella del marinaio. Ma un'altra caratteristica fondamentale dell'XL Marine è che gli interni sono completamente personalizzabili secondo i gusti, le esigenze ed il modo di andare per mare del suo armatore, grazie ad un'ampia gamma di essenze e tessuti e con la possibilità di intervenire fin dalla fase di progettazione nella definizione degli spazi e della loro disposizione. Perché siamo convinti che il vero lusso è poter scegliere. In sintesi, una linea leggendaria, una tenuta al mare ineguagliabile ed il lusso personalizzato, queste le caratteristiche dell'XL Marine. I nuovi grandi open italiani XL43 ed XL51. Lasciate agli altri i prodotti di serie. Grazie. Grazie.